Assa Buon movimento di squadra Pericolo, ecco il tiro Che gol, Censif Che gol, che gol Censif Meraviglioso gol Che sblocca il secondo tentativo Torneo, Nacho Toz Con un super gol nel set pieno Da fuori aria, meraviglioso La squadra di casa è in vantaggio Che ricorre ogni mezzo Che gol Che gol Signori, 3 al 0 Il 43esimo Vertonghen E3 a 0 In questa semifinale Nacho Toz Provinciata dunque con Powerball E fa lo gol di Vertonghen Meraviglioso Se va via Poi con la suola Temporeggia C'è il Prugneta E il Prugneta E il Prugneta E il Prugneta E il Prugneta 5 a 0 Manita Scala reale E il Prugneta Un gol pavoloso Al 42esimo Mamma mia Kevin De Bruyne KDB E il Prugneta 5 a 0 È riuscito a intervare la trama Lugacu Barbo Oh Kaku Barbo 2 a 0 Rumelu Lukaku Barbo Con la saboncia da fuori Con la sabonciati Sono dimostrati nettamente Raffermati subito il gioco Ma la prima occasione In Piedri Grande interpretazione Bella palla Prova a andare Lukaku Barbo 6 a 0 Al novantesimo Con il G-Bomb Set gioco Nei quarti di finale Jose Maria Kalia Altoz Lukaku Barbo Clamoroso 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 Bellissimo gol Di Rumelu Lugacu Barbo Con il Cippo Ma lo scadere Alla largata per Jerry Jerry che se ne va via Jerry Meraviglioso Jerry Può fare tutto quello vuole Jerry Con il Cippo Jerry Jerry Baku Baku 7 a 2 7 a 2 Jerry Baku Baku 7 a 2 Entra la panchina Segna Il numero 17 Di Mr. K Sanadine Jerry Kimbaku Baku 72 In semifinale Ose Maria Ariholt Tox Andiamo in finale Andiamo in finale Prova Nonno Valencia Nonno Valencia 3 a 0 Semplicemente il believable 3 a 0 Nonno Valencia Toz Toz Nonno Valencia Toz Dragon Blitz in cappotto 3 a 0 Un 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 circostanza.